Ripilogare un attimo la sua posizione per capire se tutto è chiaro anche per quanto mi riguarda. Lei dice che Delta Tour è una specialista dei viaggi in Africa, già nel settore da tempo. Quelli che possono essere stati gli inconvenienti che comunque vengono riconosciuti in buona sostanza, perché sono come dati di fatto, tuttavia vengono interpretati da Delta Tour, nel senso che per quanto riguarda soprattutto in particolar modo l'inconveniente avuto con il fuoristrada, è stata comunque effettuata una riparazione in tempi ragionevoli, considerato il luogo dove si trovava. Il buffet è stato qualcosa che ha costituito un problema per i congi rossi, per il marito della signora Rossi, soltanto però come caso isolato, perché nessun altro, e nemmeno la signora Rossi, ha avuto gli stessi problemi incontrati dal suo marito. Per quanto riguarda poi il filmato rovinato, voi riconoscete che c'è stata comunque questa perdita all'albergo, per cui quello anche lì è un altro dato di fatto che non è da poter controvertire. Ultima cosa, il viaggio di ritorno, voi sostenete che è una cosa che non dipende direttamente da Delta Tour, ma semmai dalla compagnia aerea che è stata prescelta per il viaggio. Io direi a questo punto di entrare in sessione privata. Per fare questo chiederei, dottore, se vuole raccomodare...